Sfruttava 33 lavoratori pagandoli 4 euro l'ora, sottoponendoli anche a turni di 12 ore quotidiane in condizioni degradanti, 6 giorni lavorativi su 7. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di un imprenditore residente in provincia, ritenuto responsabile del reato di sfruttamento del lavoro aggravato commesso nei confronti di 33 cittadini stranieri, diversi dai quali richiedenti asilo politico. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro trae origine da una attività investigativa avviata dall'estate 2021. Indagini che hanno consentito di individuare nella periferia fanese una impresa di panificazione che reclutava stranieri da impiegare come manodopera per lavorare in capannone in regime di sfruttamento. Gli accertamenti condotti attraverso pedinamenti, videoriprese, controlli ispettivi e acquisizione di testimonianze, permettevano di far emergere le condotte delinquenziali dell'indagato, il quale aveva posto in essere una condotta di sfruttamento a danno di 33 lavoratori in stato di estrema vulnerabilità e indigenza ai quali veniva negata una retribuzione complessiva per un importo di 552.000 euro. Oltre metà dei lavoratori in questione è risultata di origine africana, ma nell'elenco sono figurati pure tra italiani un moldavo, un macedone, un cubano e un pakistano. Proprio reiterando retribuzioni palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali, non rispettando nessun regolamento orario e violando pure la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, l'imprenditore si approfittava così dello stato di bisogno dei lavoratori che si trovavano in condizioni di vulnerabilità, condizioni che erano dettate anche dalla necessità di rinnovare il permesso di soggiorno. Risparmiando sui salari, sui contributi e sugli investimenti in termini di sicurezza, l'indagato avrebbe così incamerato 750.000 euro dal 2016. Questo fino alla settimana scorsa, quando l'indagato si è visto presentare il conto dallo stesso GIP, il quale, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo sui beni mobili e immobili proprio per un importo di 750.000 euro. L'ispettorato del lavoro ha dunque messo in sigilli a proprietà immobiliari, conti correnti e veicoli intestati all'indagato e alla società, oltre a elevare salatissime maximulte.